Io ho finito i colpi Però ho il colpo segreto È una candid camera Che cazzo che è un disagio approvato Praticamente facciamo candid camera È un canale di Youtube che facciamo per lavoro E questo qui appunto prevede che noi siamo controllati Da un ragazzo che ha avuto la possibilità Diciamo ha vinto la possibilità di controllarci Da uno dei ragazzi che guarda i nostri video Stavamo facendo un video Noi abbiamo un canale di Youtube Dove facciamo candid camera Dove diamo alle persone uno di questi Dietro di là c'è un ragazzino Praticamente noi abbiamo un canale di candid camera Su Youtube E questo ragazzo ha vinto Diciamo la possibilità di controllarci Perché solitamente siamo noi Che controlliamo altre persone Magari degli ospiti sul nostro canale Oppure facciamo noi scherzi Candid camera per conto nostro Dai direi che ho vinto a mani basse Grazie ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti